È polemica in città sullo staff del sindaco, la minoranza attacca, minoranza ma non tutta, è bene specificarlo. La questione diventa oggetto infatti di un'interrogazione con risposte in aula, presentata da Stefania Pezzopane, prima firmataria, e sottoscritta da Albano, Fascetti, Palumbo, Rotellini, Gianangeli, Tomassoni, Serpetti, Iori e Scimia. Due consiglieri di opposizione dunque, Palo Romano e Enrico Verini, mancano all'appello e non hanno sottoscritto quindi questa interrogazione. I consiglieri firmatari chiedono al sindaco e all'assessore e al personale come sia giustificabile una task force così massiccia quando per la stessa funzione di supporto nessuna delle altre città capoluogo supera le quattro unità. Non è convincente la sua risposta, mentre è molto preoccupante la delibera che la Giunta ha approvato decuplicando le spese dello staff che non ha paragoni con nessuna città d'Abruzzo, con nessuna città d'Italia, né precedenti con la città dell'Aquila. Lo staff per il sindaco dell'Aquila equivale a 20 persone al suo servizio. Al momento ne sono state nominate 18, naturalmente nulla contro le persone, contro le singole figure. e tuttavia riteniamo che uno staff peraltro dedicato alla comunicazione istituzionale in gran parte sia esagerato anche a fronte del fatto che continuamente la carenza dei servizi comunali viene giustificata con mancanza di personale. Quindi nei servizi essenziali non c'è il personale. Nello staff del sindaco ci sono attualmente 18 persone che possono diventare 20. In realtà sono di più perché sempre nello staff del sindaco ci sono anche persone che provengono da altri uffici e da Abruzzo Progetti. Il sindaco sulla faccenda aveva già risposto in realtà a primi accenni di polemica spiegando che dal 2017 ad oggi la spesa è stata tagliata di circa un milione di euro cui al contempo è seguito un progressivo azzeramento del precariato citando le stabilizzazioni. Biondi aveva aggiunto che la somma di 445 mila euro prevista per le potenziali assunzioni di collaboratori rappresenta una mera ipotesi di spesa per eventuali assunzioni che non è detto verranno effettuate. Per il sindaco quindi è anche improprio parlare di 20 assunzioni nello staff. Nello stesso capitolo infatti sono inserite le somme per il reclutamento del personale di supporto da impiegare a servizio del sindaco e della struttura ma anche della presidenza del consiglio comunale e dei singoli assessori ai quali a differenza di quanto avviene in Regione ad esempio non è assegnata una cifra per le assunzioni di staffisti. Grazie